Ai 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 signori, qui scattano guai, ma andiamo ad indagare subito. Innanzitutto benvenuti in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max, siamo su Pausa Caffè ancora per andare a vedere cosa succede all'interno della casa del grande fratello Vip perché a quanto pare è spuntato un segreto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ed è ancora un mistero. Ma a cominciare tutto è la bella venezuelana a rivangare questa storia del passato parlando con Daniele Dal Moro. Ed è proprio quest'ultimo che sentendone parlare corre a fare la spia proprio all'ex di Belen. Ma cosa ha detto Oriana a Daniele? In realtà non molto. Perché sì, è stato detto, sì, lui mi ha parlato sotto le coperte nel cortiletto, si è levato il microfono, ma devo dirlo? Alfonso, è meglio che non lo dica. Mi ha detto con chi è andato una volta. Ah, no, meglio per lui che non lo dico, va. Quindi c'è grande apprezzione, da parte dei fan, certo, per cercare di capire cosa ha detto Antonino a Oriana di così segreto. Tuttavia la donna ha mantenuto il segreto, ma non è bastato, per evitare che Daniele andasse a spifferare tutto ad Antonino. Eh, ho delle informazioni speciali su una cosa appena successa, non puoi capire. Però qui mi devi pagare, eh? Eh, anche in maniera salata. Per questa informazione devi regalarmi almeno qualcosa. Dai, a parte gli scherzi, ho sentito che parlava di te prima. Praticamente diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ha giurato su quello che ha di più caro che non l'avrebbe mai detta. Lei ha detto che è una persona di parola. Onestini gli ha risposto Ma dicendo così peggiori le cose perché può sembrare che ti abbia detto qualsiasi cosa. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via. Pensa a cosa faccio io da amico, che ti vengo a riportare tutto. Poi invece l'ex di Belen ha perso lucidità e ha detto Mi immagino, la cosa qui sta diventando veramente surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa, ma questa è una grande, una numero uno proprio. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi, ma stiamo scherzando. E quindi di cosa parliamo, signori? Cosa spinge un ragazzo tutto sommato composto e inamovibile come Antonino a minacciare addirittura di denuncia una ragazza con la quale è andata, sì, a letto solo fino a qualche settimana fa. Diciamo che sotto potrebbe esserci qualcosa di grosso. E allora, questo anche se sembra evidente, non è poi così scontato. Quindi attenderemo con molta pazienza i prossimi aggiornamenti. Intanto, per questo video possiamo dire che è tutto. Vi invito a lasciare un bel pollice in su sotto questo video e noi ci sentiremo alla prossima.